Il barone ha mandato i suoi scagnozzi per tormentarmi, come al solito. Violazioni alle regole di sanità, tasse arretrate, vogliono farmi a pezzi e portarmi via tutto. Oh, santo cielo! Beh, non preoccuparti, ce n'è di roba da portar via. Distruggere quel cargo al porto è stato più importante di quanto si possa pensare. Adesso ho un nuovo progetto e non ho certo bisogno di gente che ficchi il naso nelle mie spedizioni. Beh, diciamo che se tutto va come previsto, dovrei riuscire ad accaparrarmi il mercato dei trofei e delle teste di metallo. Ad ogni modo, avrei un altro lavoretto per voi. Ho un socio di nome Brutter che si occupa del commercio di lavoratori forzati. Vuoi dire il commercio degli schiari? Oh, io preferisco il termine svantaggiati legalmente. I nascosti sono la classe bassa e la manodopera della città. Brutter mi paga profumatamente per aiutarlo a liberare i nascosti e a portarli fuori dalla città. Mi solleva l'animo aiutare le persone bisognose e io ho bisogno del suo denaro. Nascosti? A noi non piacciono i nascosti. Ma vi piacerebbero dei potenziamenti per cannone, no? Ci sono tre mezzi di trasporto delle guardie crimsi che portano i nascosti verso un progetto che il barone ha avviato fuori città. Distruggete i mezzi e portate i tre nascosti al chiosco di Brutter nel bazar. A causa delle regolazioni, fornire la descrizione dei sospetti. Ok, controlliamo! Sia così soli al comando. E guardando in basso da dove mi trovo posso vedere che questa sporca città... Fermo! Odio l'odore di questa zona della città. Fermo! Qui, unità alfa, siamo in marcia! Qui, unità alfa, siamo in marcia! Arrestato! No! Fermo il veicolo! Ehi, Dentone, muoviti a entrare! Ti porteremo da Brutter! No! Inseguimento nel settore quattro! Chiamate il veicolo! Fermo! Fermo il veicolo! Suonate l'allarme! Fuori dal veicolo! Fermo! Uoviti! No! Ricci avuto proseguiamola per l'ostrazione! Per favore! Ecco il tuo amico, Brutter! Andiamo subito a prenderne un altro! Ricci avuto! Fermo! Fermo il veicolo! Fermo! Sospetto in volo nel settore cinque! Sospetto in un veicolo! No! Sospetto in volo nel settore cinque! Suonate l'allarme! Troppo facile! No! Troppo facile! Fermo! Ho il rumore di questa zona della città! Ricci avuto per l'ostrazione in corso! Sono deluso dalla mancanza! Quil vorreggiatato! Per favore! Ehi Dentone, muoviti a entrare, ci porteremo da Brutter Chiamate il sospetto in volo nel settore 5 Fermo Stai lontano da me Ti ho provato Fermo Ferma il veicolo Ferma il veicolo Diseguimento nel settore 4 Chiamate fuori dal veicolo No Chiamate il veicolo Sospetto nel settore 6 Ferma il veicolo Sospetto nel settore 6 Sospetto in un veicolo No Vida il veicolo No Ferma il veicolo No No Per favore Sospetto nel settore 6 Ferma Viva 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 No No No! Guarda il veicolo! Fermo! Servono, arrivi in troppo! Fermo! Proviamo altri gredi! No! Fermo! Per favore! Porta a macchia degli animali! Porta le due chiappe pelose sul veicolo! No! Andiamo entrando! Sospetto nel settore 6! Sospetto in un veicolo! Chiudete l'aria! No! Sono deluso dalla mancanza! Andogliamento settore 9! Per favore! Ehi, Dentone! Muoviti a entrare! Ti porteremo da Brutter! Fermo! Fermo! Fuoco! Fuoco! Di seguimento nel settore 4! No! Sospetto in un veicolo! Sospetto in un veicolo! Fermo in un veicolo! Fermo in un veicolo! Passo al settore successivo! Passo al settore successivo! Attività sospetta in questo settore! Fermo in un veicolo! Per favore! Falta amante degli animali! Porta le due chiappe pelose sul veicolo! Un po' di fiume! Per favore! Sospetto in volo nel settore 5 Fermo! Fermo! Chiamato di Ego! No! Sospetto! Sospetto nel settore 6 Sospetto in volo nel settore 5 Aiuto! Chiamo altri Hellcat! Servono altri incrociatori Per favor! Oh Volta col veicolo, amico! Possiamo salvarti! Non è veicolo! Muoviti! Fermo! Muoviti! No! Abbiamo altri, Elka! Servono altri, incrociato! Dai, con Sanoda! No! No! Fuori dal veico! Ci ha seminato! Piccolo guerriero arancione, tu fatto veramente molto per Brutter e popolo di nascosti! Insomma, sta attento! Mi aspettino? Oh, scusa! Voi grandi! Brutter non dimentica! Brutter poi ripaga, è sicuro! Non dimenticato! Because of the Perché però vediamo il nuovo video? D掌